ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ad orologi calamai orologi calamai è un micro brand toscano che avrete imparato a conoscere qua sul mio canale se non lo conoscete vi invito a vedere i video passati per farvi un'idea di cosa si tratta praticamente è gestito dal buon francesco calamai uomo da altri tempi gran signore gentleman che è appassionato di aviazione una famiglia che ha le radici nel mondo dell'aviazione i suoi avi e realizza orologi ispirati al mondo dell'aviazione la sua passione è quella e non ha la minima idea di lanciarsi in altri campi fossero dress watch o diver niente orologi pilot cronografi insomma non sapete qua quali orologi intendo per il mondo dell'aviazione ecco questo orologio qua il mark 4 un solo tempo che segue a ruota il mark 3 che aveva precedentemente prodotto è una novità è una novità di quest'anno che troverete nell'amico giacomo la gioielleria pasquale domenici di viareggio a partner del canale perché me l'ha messo a disposizione lui quindi se vi interessano gli orologi calamai che non trovate nemmeno sul suo sito perché il buon francesco è un po pigro a volte viene a mancare le informazioni sul sito ecco dalla gioielleria pasquale domenici voi trovate gli orologi calamai io l'ho preso me l'ha messo a disposizione il buon giacomo perché mi ero accorto di averlo lasciato indietro come sapete sono possessore del mc 72 che è uno calamai con doppia corona e bag interna e quindi ho deciso di portarlo sul canale perché merita perché poi ho anche un nutro affetto nei confronti di francesco calamai lo ritengo una persona eccezionale quindi anzi non me ne vogliate anche se la recensione vi sembrerà troppo buona perché insomma è un po inquinata dal mio rapporto con lui quindi comunque gli orologi calamai sono buoni e lo dico io a disposizione ci sono quel quadrante marrone nero e verde poi mi ha fatto sapere il buon calamai che dal prossimo anno probabilmente eliminerà il marrone e il verde e inserirà il quadrante blu soleil così pur purrì ho fatto un ventaglio di possibilità io ho preso quello nero che è il più sobrio quello che più si addice ai miei gusti e alle mie caratteristiche di persona sobria ora detto questo vi mostro l'orologio del giorno che è questo bellissimo longin legend diver diver con doppia corona bug interna girevole calibro l88 39 millimetri di diametro cassa e quadrante nero pece proprio come ci imparano il bracciale a chicchi di riso poi è la morte sua come si suol dire adesso giriamo la camera diamo uno sguardello a questo simpatico orologi calamai che ti toglie dai guai e poi ci troviamo qui come al solito per le considerazioni finali volgiamo uno sguardo ai risultati ottenuti dalle misurazioni effettuate sul campo diametro cassa 38 millimetri spessore 10.9 ingombro trasversale al polso 46.3 e interasse ansa da 19 millimetri un orologio compatto sottile e filante in quanto lo spessore sotto gli 11 millimetri è perfettamente consono ad un diametro cassa così ridotto spesso si guarda solamente alle misure singole quando in realtà è la proporzione tra queste che ci deve restituire un qualcosa di armonioso e qui direi che ci siamo probabilmente si è riusciti a limitare lo spessore delle pareti e del fondello infatti quest'ultimo è praticamente a filo cassa senza sporgere come solitamente accade ma anche il fatto che sia fissato con quattro singole viti contribuisce a ridurne l'ingombro rispetto all'avvitamento integrale tipico ciò che ne può risentire l'impermeabilità ed infatti qui il limite di resistenza alla pressione definito in 5 atmosfere attenzione che pur essendo dichiarato tale valore i test vengono effettuati ad 8 atmosfere conferendogli così una certa tranquillità nell'utilizzo quotidiano dato più che soddisfacente se consideriamo che trattasi di un orologio dedicato all'aviazione e non da utilizzare al mare una sorta di pilot semplificato nel quale la leggibilità e l'essenzialità diventano parte integrante dell'orologio stesso a tal proposito occorre ricordare che la cassa è realizzata con un acciaio speciale risultante dalla fusione delle palle turbina del panavia tornado caccia multiruolo in uso all'aeronautica militare italiana non si tratta di un acciaio con particolari caratteristiche meccaniche semplicemente si vuole rendere un tributo all'aviazione nostrana utilizzando un qualcosa proveniente dai mezzi utilizzati è la tonalità superficiale ad essere differente non vorrei fosse una mia errata impressione ma dopo aver maneggiato numerosi orologi ritengo di poterla ritenere attendibile in soldoni il grigio dell'acciaio inox appare più tenue e amalgamato diversamente di certo è la finitura opaca caratterizzare l'intero corpo cassa una lavorazione che gli conferisce sia un tono austero in linea con lo spirito militare sia un senso di artigianalità specie con quella corona di carica completamente zigrinata che da sempre è un segno distintivo dei calamai da segnalare che nonostante non abbia velleità da diver la corona si avvita la cassa tramite un generoso tubo filettato caratteristica che consente di non danneggiare l'albero in caso di urti a livello di finiture occorre poi sottolineare che non si è rinunciato a qualche piccolo vezzo osservandolo lateralmente si può infatti notare come il sottile bordo del fondello e la base della lunetta siano lucidati a specchio una piacevole finitura puramente decorativa che si nota solamente sapendo che esiste e che non va a modificare il severo aspetto dell'orologio tecnicamente parlando abbiamo poi una lunetta fissata a pressione che va a bloccare il sottostante vetro zaffero dotato di doppio trattamento antiriflesso mentre come già anticipato il fondello è fissato tramite quattro viti al di là di ciò risulta essere una sorta di vademecum dell'orologio da tante sono le informazioni tecniche ivi riportate tra cui il numero seriale dell'esemplare l'aereo mobile da cui proviene l'acciaio e la dicitura movimento regolato su sei posizioni questo perché viene utilizzato il calibro sellita sv200 nella versione top grade la versione più pregiata o per meglio dire come viene definita da sellita premium movimento che di per sé oltre ad utilizzare materiali e decorazioni premium viene regolato da sellita stessa su cinque posizioni e la sesta quale sarebbe in fase di assemblaggio dopo essere stato incassato viene nuovamente testato su sei posizioni dai tecnici di karamai questo perché si vuole verificare che il movimento risulti ottimale anche dopo averlo maneggiato durante le fasi di assemblaggio inutile dire che la scelta di un calibro di questo livello mette in mostra l'intenzione di offrire un prodotto complessivo al di sopra della media di mercato che solitamente si limita ad utilizzare la pur ottima versione standard per gli amanti dei numeri occorre infine specificare che questa versione top grade prevede uno scarto giornaliero di più 4 meno 4 secondi ma torniamo a dare uno sguardo al lato a laddove da subito si percepisce l'elevato grado di leggibilità del quadrante d'altronde stiamo parlando di un segnatempo che nasce per questo scopo quadrante nero opaco in grado di assorbire la luce ed elementi ricoperti di materiale luminescente appare palese come possa risultare ben comprensibile in ogni situazione in linea generale apprezzo poi quella simmetria globale ottenuta grazie all'assenza del datario e tramite il posizionamento dei numeri arabi ai quarti con i rimanenti indici a bastone perfettamente dimensionati e ben visibili il tutto si sviluppa verticalmente laddove il fulcro è rappresentato dalle varie scritte posizionate tra ore 12 ed ore 6 tutto molto ben equilibrato apprezzo poi anche quella leggera tridimensionalità data dagli accenti in rilievo non si tratta di indici applicati ma ottenuti a pressione nella parte posteriore li trovo interessanti perché sono privi di un qualsiasi tipo di cornice metallica che invece abbiamo presente sulle sfere ecco a parer mio forse si tratta di due differenti stili che stridono un po' contro loro ultima nota di colore l'estremità della lancetta secondi dipinta di rosso un classico in assenza di luce riesce a soddisfare le necessità richieste sia i numeri che gli indici che le sfere restituiscono il corretto grado di luminescenza nulla da eccepire non rimane che di squisire a riguardo del cinturino per il quale non occorre utilizzare troppi giri di parole si tratta di un pelle made in italy di elevata qualità nonostante lo spessore sia bene evidente riesce a risultare anche morbido e giusto mentre lo stile strizza l'occhio al passato con quelle punture chiare che sono presenti sia alle anse che alla fibia apprezzo poi la suddivisione in due colori nero all'esterno e chiaro all'interno laddove compare ancora una volta il logo di orologi calamai ben evidente possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali ed eccoci qua con il simpaticissimo orologio che chiaramente è promosso perché non possiamo bocciare francesco calamai no però dopo ci picchia se lo bocciamo ecco tra i punti deboli che non ho elencato ce n'è solamente uno che ogni tanto mica mi è capitato cioè quando si va ad avvitare la colonna a volte si impunta quindi occorrebbe premere bene e fargli trovare il punto giusto della rotazione ok è un piccolo a volte succede un paio di volte mi è successo però può succedere questo è un piccolo impuntamento poi però tra l'altro tra le altre cose ora io mi ricordo sul mio mc 72 ha lo scatto fantasma alla colonna cioè c'è uno scattino che sarebbe per regolare la data pure senso essendo senza data questo è senza data ma non ha lo scatto fantasma perché il buon francesco dopo la mia reprimenda ha fatto in modo di modificare sia gli mc 72 che poi i modelli successivi come questo mark 4 senza scatto fantasma alla corona quindi finalmente siamo arrivati a questo punto io posso vantarmi di avere uno dei primi mc 72 con lo scatto fantasma sono quelle storie che poi si possono raccontare per la strada agli amici no poi vabbè che che minus è lascia un po il tempo che trovo poi per il resto è un orologio che è bello è bello perché poi ha il family feeling del di casa calamai no come il mio mc 72 queste corone così zigrinate questo colore dell'acciaio il quadrante fatto in quel modo lì con i numeri anche il mio questi numeri qua così semplici no senza grazie leggibilità elevata il family feeling di calamai ce l'abbiamo su tutti gli orologi della sua famiglia sono ispirati all'aviazione dedicati all'aviazione però c'hanno un certo family feeling tra di loro poi parlare di che cosa ah ecco che siamo passati all'acciaio dei tornado con questi sul mio utilizzava l'acciaio delle turbine degli f 104 poi sono tutti finiti tutti spolpati non ce ne sono più è passato il tornado ora spolperà tutti il tornado e io poi gli auguro anche di arrivare a prendere le turbine degli euro fighter lunga vita calamai quindi un giorno si prenderà le turbine degli euro fighter morti e ci farà gli orologi altre cose da dire che calamai è trasparente è trasparente perché ci lascia ci spiega anche come fa l'orologio lui cioè lui la cassa la fa fare in italia cioè fa fondere da una ditta le palle delle turbine le fa fondere del cavallacciaio poi le manda un'altra ditta sempre in italia dove fanno la cassa i quadranti li fa fare in svizzera e il calibro chiaramente svizzero e la curiosità è per esempio che il vetro fa fare in cina però per l'antiriflesso interno ed esterno li fa arrivare in svizzera e li fanno trattamento questo già tanto per dire quanto sia meticoloso no perché probabilmente ha trovato che dalle altre parti il trattamento antiriflesso non è di qualità e solamente quella in svizzera riescono a farlo in un certo modo e lo fa fare lì no poi per il vetro zaffero si può prendere anche in cina o laddove e il cinturino made in italy fatto bene artigianalmente diciamo artigianalmente sarà industriale però si vede che è fatto bene ok quindi sappiamo tutte le componenti dove le prende e poi le assembla in italia onore al merito al buon francesco che ci spiega tutto e ci lascia ci fa capire come fa a costruire i suoi orologi questo ci piace tanto poi detto questo altre cose da dire non ne vengono in mente non ce ne sono altre se non che 38 mm può essere l'orologio adatto per tutti l'every day watch anche perché le 5 atmosfere di impermeabilità poi sarebbero testate ad otto quindi l'acqua la regge certo non ci si deve andare a fare il bagno anche se magari ci si potrebbe ma non è adatto proprio come stile no quindi potrebbe essere un classico every day watch da utilizzare senza pensieri anche perché tutto satinato e con la consapevolezza che dentro c'è un calibro preciso e di qualità detto questo poi conta anche il marchio quindi sapere che dietro c'è un francesco caramai e la sua azienda è tutto di guadagnato questo è poco ma sicuro a differenza di altri ok ragazzi vi ho fatto vedere tutte le cosine dell'orologio le foto le macro tutti gli ingredienti li ho messi lì sul piatto no poi li amalgamate assaggiate poi mi dite se vi piace se non vi piace ce ne faremo una ragione e passeremo al prossimo orologio se invece vi piace sappiate che è lì a disposizione di tutti o meglio di chi tira fuori soldi detto questo vi ringrazio e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube l'abbiamo 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 Grazie a tutti.